raga cosa abbiamo qua c'è guardate levis emilton la nuova monster top quality adesso me la bevo pronti con la nuova monster che vi dicevo cioè la grafica è bellissima ha una grafica proprio da formula 1 e ve la leggo ogni giorno cerchiamo di dare il meglio di noi stessi ma per farlo abbiamo bisogno del carburante giusto so quanto sia importante quanto ci si prepara a fronte ogni stagione campionato con questa missione in mente ho collaborato con monster per realizzare questa lattina edizio limitata infusa con il gusto rinfrescante di frutti con il nocciolo questa bevanda energetica ricca di tutti gli ingredienti vegani necessari per mettere il turbo a vostra guida racchiusa in un design su misura creato con mad dog jones questa forma deliziosa vi renderà pronte a tutto bella e bella poi zero sugar quindi andiamo l'assaggio dai 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 tastiamola ci sono 30 gradi la cosa più buona che abbia mai bevuto c'è ha un sapore dolce rinfrescante leggero cioè sa tipo di qualche frutto tropicale comunque design e gli do un 8 sapore 8 e mezzo diciamo che uno dei più buone prezzo 1 euro 75 1 euro 45 in base a dove andate quindi provatela bella bella